Decimo meeting di Federazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei lavoratori autonomi e dei pensionati, un'associazione nata, ricordiamolo, 25 anni fa all'interno della Facoltà di Economia e Commercio. Parlare di incentivi, promuovere lo sviluppo di imprese è sempre stato il nostro cavallo di battaglia, abbiamo analizzato anche le misure regionali, ma ovviamente cerchiamo anche di sensibilizzare gli operatori ad un corretto uso delle risorse per non sottrarle giustamente agli imprenditori onesti. Un appuntamento atteso come ogni anno, il meeting è organizzato da Federazione Nazionale e che è giunto alla sua decima edizione. Tenutesi presso la Sala dell'Hotel Leoni di Messapia, ha visto la presenza di autorità ed esponenti politici regionali e comunali. Autorevoli persone, quelli che hanno partecipato oggi al decimo meeting di Federazione Nazionale, sicuramente sono stati presenti gli illustri dottori commercialisti della nostra provincia, ringraziamo l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Lecce che è sempre stata al nostro fianco, un evento che è stato patrocinato anche dalla Camera di Commercio di Lecce e dal Consiglio regionale della Puglia. Dottoressa, qual è stata la novità del meeting di quest'anno? La novità di quest'anno sicuramente è stata promuovere le imprese attraverso lo sport. Federazione Nazionale, infatti, ha costituito Federazione Formazione e Lavoro, la nuova associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Puglia con deliberazione 469 del 2023. Lo scopo è proprio quello di incentivare lo sport e di avvicinare e di aiutare i ragazzi e i giovani nel mondo del lavoro. Tanti temi affrontati durante il partecipato evento e le novità che riguardano anche il mondo dello sport. Federazione Nazionale è convinta che bisogna investire su questo settore anche perché a livello economico dà un forte aiuto allo sviluppo del paese. Ogni volta è un'occasione di informazione, di formazione e cerchiamo di rendere note alle imprese quelli che sono i nuovi incentivi, le nuove possibilità.